questa disciplina conosciuta come skit misto ha suscitato grande interesse tra il pubblico ed è diventata un vero punto culminante affascinando gli spettatori secondo i rapporti bacosi e rossetti hanno fornito una prestazione eccezionale nella finale che ha unito sia la tecnica che il lavoro di squadra i due atleti si sono distinti durante il torneo per una precisione notevole che alla fine ha garantito loro la vittoria bacosi che ha già vinto la medaglia d'oro olimpica nella prova individuale di skit nel 2016 ha nuovamente dimostrato il suo valore rossetti una stella emergente nel mondo del tiro ha spesso dimostrato di essere un futuro campione grazie alla sua prestazione costante e ai suoi risultati impressionanti i media hanno riferito che la combinazione di esperienza ed energia fresca è stata la chiave per la medaglia le regole sono state concepite in modo da offrire ai tiratori maggiore libertà di prendere decisioni strategiche richiedendo al contempo la massima precisione questi aspetti contribuiscono a rendere la disciplina dello skit più complessa e emozionante suscitando entusiasmo non solo negli atleti ma anche nel pubblico anche bacosi e rossetti hanno sottolineato che l'evoluzione di questa disciplina ha giocato un ruolo importante per la loro vittoria la medaglia d'oro nel mix team skit non viene considerata solo un successo personale per bacosi e rossetti ma anche un grande passo per il tiro a volo italiano nel suo complesso la loro unità e il lavoro di squadra potrebbero rappresentare una fonte di ispirazione per le future generazioni di atleti con questa eccezionale performance hanno elevato notevolmente l'asticella per le prossime competizioni di skit rendendo al contempo il loro paese fiero le olimpiadi del 2024 non sono quindi caratterizzate solo da prestazioni sportive eccezionali ma anche da momenti di orgoglio nazionale che atleti come diana bacosi e gabriele rossetti incarnano in modo impressionante con la loro vittoria nel misto di skit autore anita fa che lunedì 5 agosto 2024